Da mesi terrorizzava banche, farmacie e uffici postali di Torino. Otto è riuscita a rapinarli tra maggio e settembre e solo un colpo gli è andato a vuoto. La lunga serie si è fermata venerdì scorso dopo l'ennesima rapina all'unicrediti di Largo Toscana, il giorno dopo l'arresto. Un'indagine che gli inquirenti hanno praticamente condotto grazie alle testimonianze delle persone che quell'uomo lo hanno descritto nei minimi particolari. Mancino, sguardo spiritato e con una busta di plastica verde in mano. Le telecamere di videosorveglianza e un'impronta lasciata accidentalmente dal malvivente in un istituto di credito hanno poi fatto arresto. In manette finito Ferdinando Magnasco, 43 anni, definito uomo violento. Per affermare il suo potere durante i colpi si serviva anche di una pistola tamburo, risultata poi scenica e sprovvista del tappo rosso. La busta di plastica gli serviva per raccogliere il denaro che si portava via dopo aver minacciato i presenti con l'arma da fuoco. Il 27 settembre, dopo la rapina all'unicredit, i carabinieri del nucleo investigativo di Torino lo hanno catturato. A casa sua hanno ritrovato sia l'arma che i vestiti e quel sacchetto di nylon verde dal quale sembra non volesse staccarsi. Il rituale di Magnasco era sempre lo stesso. Con l'auto della madre faceva dapprima un sopralluogo il giorno dopo, studiati particolari durante la notte agiva. Indagini sono in corso per stabilire se ci siano collegamenti con altre rapine avvenute nella zona presa di mira dal 43enne.